Nella sede dell'assessorato alle politiche sociali del comune di Pordenone, il sindaco Claudio Pedrotti è stato eletto presidente dell'ambito distrettuale urbano 6.5. L'elezione è avvenuta all'unanimità. I sindaci dei comuni di Porcia, Cordenons, Roveredo e Sanquirino, dopo una serie di incontri, hanno raggiunto un'intesa sulla guida da assegnare al primo cittadino del capoluogo, il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. È stata un'intesa raggiunta tra i sindaci che ci ha dato la possibilità per cominciare a dire quale sarà la politica di lavoro comune che proprio insieme i sindaci andranno a fare in quest'area. Vogliamo provare semplicemente con i fatti, cioè lavorando silenziosamente ma poi mostrandoli come in questo caso, che si può arrivare a fare delle nomine che non sono di tipo politico, perché la mia non è una nomina di tipo politico, che danno una chiara indicazione del consenso che stiamo costruendo sulle cose serie, su un modo nuovo di lavorare che sarà basato su un confronto continuo e costante. Io ringrazio della fiducia che mi è stata data dagli altri sindaci e ringrazio anche per il lavoro finora svolto, la struttura dell'ambito, grandi professionisti. Adesso lavoreremo insieme nel 2012 per ridefinire e di fatto verificare le cose da migliorare, le cose da continuare con lo stesso stile, ma sempre nell'ambito primo che noi siamo i servitori e voi cittadini dovete avere da noi le cose migliori.